Palestre aperte ma con andamento lento. Gradualmente palestre e centri fitness d'Abruzzo sono tornate a pieno regime seppur con una timida presenza di appassionati. Evidenti il callo rispetto ai giorni precedenti l'emergenza sanitaria. Ovviamente il protocollo da seguire è categorico sanificazione degli ambienti, modalità di accesso controllate sempre su prenotazione. Ingressi dunque a turno con uno spazio di circa 7 metri quadrati per ogni singola persona. In sala attrezzi sono evidenti le maggiori distanze per evitare contatti e contagi. Spogliatoie e aree comuni chiuse con l'obbligo di installare dispenser per mani prima di entrare nella struttura. Il termoscanner controlla la temperatura corporea ad ogni ingresso. Tutto questo mentre tante strutture hanno allestito spazi esterni. Sicuramente non era la riapertura che ci aspettavamo però comunque noi ci mettiamo l'entusiasmo di sempre e speriamo in una ripresa vigorosa come del resto lo sport merita. Un ritorno quindi timido? Molto timido, attento e aspettiamo che le cose si tranquillizzano perché c'è ancora molta paura sul questo questo diciamo evento che ci ha colpito un po' da vicino. Prediletti gli spazi esterni? Sì sicuramente tutto all'aperto, distanziati e in completa sicurezza. Abbiamo fatto degli investimenti per per dare questa certezza e dal nostro punto di vista quello che vogliamo garantire è un ambiente sicuro e nel pieno rispetto delle regole che ci hanno dato. Distanza minima tra le persone di almeno due metri durante l'attività fisica. Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati dopo l'utilizzo non devono essere più usati. Vanno invece usate in palestra apposite scarpe previste esclusivamente all'allenamento. Intanto c'è chi ha abbracciato la riapertura come una vera e propria liberazione. Mi è mancato tantissimo perché io mi alleno quasi tutti i giorni quindi per me la palestra è un momento fondamentale nella giornata. Cosa è cambiato? Niente per me perché mi alleno da sola però per quanto riguarda la sala attrezzi c'è molto più spazio. Gli attrezzi sono disposti in maniera molto distante quindi ci si può allenare in sicurezza e veramente ottimo davvero ottimo lavoro.